Forse non siamo più simpatici, però non è che vi stiamo invitando a cena, non è che vi stiamo chiedendo di passare le vacanze insieme. Qui c'è una situazione complicata, guerra, inflazione, caro energia. Di fronte a questa situazione complicatissima, voi a chi affidereste la gestione del vostro portafoglio? A Salvini e Lameloni? A Di Maio e Fratoianni? A Conte che magari lui usa quei soldi per i banchi a rotelle? Oppure a noi con calenda? Il biopolarismo ha portato sullo guai e ha fallito su tutti i fronti. Non ci ha consentito di trovare delle soluzioni adeguate per i governi, tanto è vero che i governi si sono moltiplicati anche questi anni. Abbiamo avuto otto governi negli ultimi dodici anni. Non ha semplificato la politica perché i partiti sono aumentati anziché diminuire e ha portato il contagio del virus del populismo, il populismo di destra e di sinistra. Quindi abbiamo bisogno di un'alternativa vera, di centro, riformista e moderata. Noi siamo quelli e soli che diciamo Mario Draghi a Palazzo Chigi, siamo quelli che guardano il lavoro, siamo per il fare, siamo per i giovani, Industria 4.0, siamo per l'artigianato. Tutto questo per garantire il lavoro sempre.